Ho finalmente, dopo un po' di giorni che è passato il mio compleanno, finalmente ho arrivato il mio pranzetto, giusto, bello, buono, spaghetti, meglio tardi che mai, esatto, con il tonno nella barchetta di melanzane, poi abbiamo la tartara con l'avocado, l'insalata rucola, e tonno, naturalmente, brevet, brevet cigar, e questa è la famosa torta che mi ha fatto la moglie per il mio compleanno, abbiamo la spremuta di arancia, e che dire, buon appetito a tutti, grazie della visione, al prossimo, ciao!